Questo non è amore, il progetto anche della Polizia di Stato nella settimana si avvicina alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne? Sì, è un progetto che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza porta avanti da anni e che purtroppo, devo dire, è quanto mai attuale, quanto mai recente, visto i drammatici fatti questi giorni con l'ennesimo femminicidio, è un progetto che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare tutte le donne, ma io direi anche tutti gli uomini, perché io vorrei che a questi incontri fossero presenti gli uomini, ai quali far capire che l'amore non è possesso, non è decidere della libertà altrui, non è decidere cosa voglio io e del tuo parere e me ne importa niente. Quindi è un progetto rivolto a tutte le persone, ai uomini e donne, ma soprattutto rivolto alle donne che devono sapere che sopportare atti di violenza non significa essere amate. Vi sono specialisti alle forze di polizia a cui rivolgersi ed appello è quello, non lasciatevi andare mai alla rassegnazione, rivolgetevi alle forze di polizia perché ci saranno persone in grado di aiutarvi e di aiutarvi a risolvere il problema.